La crisi idrica a Caltanissetta sta causando gravi disagi con molti cittadini costretti a rifornirsi tramite autobotti. L'Unione Nazionale Consumatori, rappresentata dall'avvocato Fabrizio Colasberna, ha annunciato una class action per richiedere la revisione dei contratti idrici e la riduzione delle tariffe. Nella nota si legge che la situazione attuale è attribuita alla cattiva gestione e alla mancanza di manutenzione da parte di Caltacqua, Acqua e di Caltanissetta, S.P.A. e Sicilia Acqua, S.P.A.